In seguito da mille lazzi, mille imitazioni, non sempre immeritate per spunti che lui proponeva, però la scomparsa di Aldo Biscardi ci porta a riflettere seriamente su quello che ha rappresentato il suo modello, il suo format, la sua straordinaria creatura, il processo del lunedì, che davvero è stata l'invenzione, il laboratorio dei talk show contemporanei. Nei trent'anni successivi tutti in un modo o nell'altro hanno fatto il bar sport in maniera più solenne, impegnata, motivata, ma comunque lo schema era quello, un tavolo, una luce, uno schermo e gente che in qualche modo alzava la voce e trascendeva in maniera studiata, preordinata, pianificata, come lui in qualche modo nei suoi dosaggi organizzava. Ecco, quello è stato assolutamente una straordinaria invenzione della televisione, ma c'è un altro aspetto che forse è ancora più interessante. Biscardi proprio con il tourbillon degli esperti, dei commentatori, degli opinionisti più inverosimili che portava in televisione, ci ha proposto in maniera forse inconsapevole, a sua insaputa, direbbe qualcuno una riflessione di fondo sul fatto che nei media contemporanee, e ancora di più poi in quella che sarà la rete nei decenni successivi, l'onere dell'attendibilità, dell'affidabilità, del prestigio dei contenuti non spetta a chi parla, ma spetta a chi ascolta, è lui il selettore che decide se vale la pena o no prestare la propria attenzione. È un'inversione copernicana decisiva nel sistema mediatico, che proprio l'artigianalità di Biscardi ci ha in qualche modo suggerito all'inizio e non è stata colta per quello che era, ma la rete oggi ci dà gli strumenti per riassaporare quella straordinaria intuizione e per misurarla in tutti gli ambiti che si ripropone, come in qualche modo stiamo facendo con i nostri appuntamenti. A presto. Grazie.